Come dici? Che vuoi una merenda leggera ma decisamente invitante che possa coniugare la tua voglia di leggerezza e di golosità? Ma lo sanno tutti che una merenda così è una vera schifezza. Ma cos'è dici? Mi dovrebbe cadere un asteroide in testa adesso? Niente asteroidi oggi? Solo merende sane? Gli asteroidi sono in sciopero oggi?